L'Associazione Benefica, Lega del Filodoro di Molfetta, torna a lanciare la campagna di informazione e sensibilizzazione tutti i colori del buio. L'obiettivo è quello di ricordare l'importanza di inserire un lascito nelle ultime volontà per la cura e l'assistenza delle persone sordoceche e delle loro famiglie. I particolari in questa scheda. Il Centro Sociosanitario Residenziale della Lega del Filodoro di Molfetta, aperto nel 2007, è un punto di riferimento per giovani e adulti sordocechi residenti in Puglia e nelle regioni limitrofe, ai quali offre servizi educativo, riabilitativi, sanitari e assistenziali. La sede pugliese è in grado di ospitare 40 utenti per ricoveri a tempo pieno e 15 ad egenza diurna. Senza il contributo dei lasciti testamentari non sarebbe stata possibile la realizzazione di interventi di miglioramento della struttura, come la piscina per l'idroterapia, il parco esterno e il tetto. Negli ultimi dieci anni la Lega del Filodoro ha raccolto una media di 45-50 lasciti all'anno con donazioni anche piccole e alla portata di tutti. Per raccontare cosa è stato realizzato, l'associazione torna a lanciare la campagna di informazione e sensibilizzazione Tutti i colori del buio. In Italia, secondo uno studio realizzato dall'Istat in collaborazione con la Lega del Filodoro, le persone affette da problematiche legate alla vista e all'udito sono 189.000 e il 30% vive nelle regioni del sud. Molti sono anche bambini e ragazzi che vivono una condizione estremamente complessa, poiché associano al deficit sensoriale altre disabilità. Il centro di Molfetta è l'espressione tangibile e diretta di cosa abbiamo realizzato in questi anni con i lasciti testamentari di tanti italiani che nelle loro ultime volontà hanno scelto di sostenere la Lega del Filodoro, ha dichiarato Rossano Bartoli, segretario generale dell'associazione. Poi torna anche quest'anno la campagna di informazione e sensibilizzazione sui lasciti solidali Tutti i colori del buio, promosso appunto dalla Lega del Filodoro per ricordare l'importanza di inserire un lascito nelle ultime volontà per la cura e l'assistenza delle persone sordoceche e delle loro famiglie. Si tratta di una campagna dall'alto valore simbolico che rompe totalmente gli schemi nella comunicazione sul tema della solidarietà testamentaria. Lo spot ha l'obiettivo di far riflettere su quanto il buio accomuni un lascito testamentario ultimo gesto di solidarietà alla dimensione in cui vivono costantemente immerse le persone sordoceche e come questo possa diventare e trasformarsi invece in luci e suoni.